Via Libera dalla Regione Abruzzo ai vaccini bivalenti contro il Covid per tutti gli over 12 e come quinta dose per gli immunodepressi. Il bivalente è un vaccino che ha sia il ceppo originario di Wuhan che la variante B1, mentre con ogni probabilità arriverà verso la fine di ottobre un vaccino con il ceppo originario di Wuhan e varianti B4 e B5. Nel frattempo e parallelamente alla campagna di vaccinazione al Covid, il Ministero ha invitato le regioni ad avviare la campagna anti-influenzale, su cui la Regione Abruzzo si è detta già pronta. Noi partiremo la prima metà di ottobre anche con la contestuale campagna anti-influenzale, che quest'anno sarà particolarmente importante e delicata, perché dopo tre anni in cui questo virus influenzale è stato fortemente mitigato dall'uso delle mascherine, adesso, come si sa, siamo tornati a essere un po' più liberi nelle nostre abitudini, e quindi il virus influenzale quest'anno sarà particolarmente diffusivo e anche abbastanza, diciamo, aggressivo. Quindi dobbiamo cominciare subito, già dalla prima metà per le categorie cosiddette più fragili, più esposte, dai 60 anni in su, noi abbiamo allargato la platea nazionale, siamo posti agli obiettivi di raggiungere un target molto importante, circa il 75% della popolazione a rischio, e quest'anno stiamo cercando anche di sensibilizzare la popolazione pediatrica, perché la vaccinazione pediatrica è importante non solo per il bambino, perché il virus influenzale può portare a delle conseguenze molto importanti per i bambini, scatenare malattie autoimmuni, ci sono anche degli studi per il diabete influenza, quindi non è una cosa leggera l'influenza anche per il bambino. E poi perché i bambini, i ragazzini rappresentano anche poi il veicolo per le famiglie, quindi pensiamo anche a proteggere i nonni e le persone più anziane, proteggendo appunto i bambini. Sarà anche possibile vaccinarsi contemporaneamente contro l'influenza e contro il Covid? Abbiamo allargato anche la platea dei vaccinatori, che quest'anno avremo anche la possibilità tranquillamente di fare il vaccino anti-influenzare presso le farmacie, quindi un vaccino anche di prossimità, quindi molto fruibile, quindi l'obiettivo è importante, l'influenza ci fa ricordare come sia importante tutte le vaccinazioni, perché nel rischio infettivo vale molto la prevenzione, la prevenzione si fa con il vaccino. Va sottolineato che la somministrazione al vaccino anti-influenzale sarà totalmente gratuita per alcune fasce. Saranno gratuiti i vaccini per le categorie target che noi abbiamo individuato, da 60 anni in su e per i cosiddetti soggetti fragili e per i bambini, quindi un'offerta gratuita.